Per non perderti nessun contenuto su questo canale ti invito a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed e a passare da Instagram per contenuti sempre esclusivi. Buona visione! Siamo arrivati a così tanti episodi che vi giuro che io ho perso il conto non so più a che episodi siamo forse trentasettesimo forse trentottesimo non ne ho idea sta di fatto che nello scorso episodio abbiamo perso ben tre pokemon perché sono cretino e il team oggi ragazzi è composto dai pokemon che vedete in sidebar nonché nel video abbiamo inserito flame sasha e il buon merlin finalmente ce l'ho fatta dopo secoli vi faccio vedere il suo moveset visto che faceva cagare finalmente mi ha imparato se solo potessi farvelo vedere questa mossa qua che è speciale io non so la traduzione italiana non mi interessa so che fa male e poi va bene gli ho insegnato flamethrower giusto perché altrimenti avrei sboccato come avete visto ho allenato un pochino i pokemon e vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace per sostenere sempre questa serie perché ragazzi andiamo avanti andiamo avanti che meglio così dice perché perché cos'è sta merda cos'è sta massa in forme di cacca cos'è cosa sei allora oh la cattura fermi la cattura no ok c'è la space is close giusto è vero l'avevo già preso e nulla mi raccomando vi dicevo lasciate un bel mi piace per sostenere sempre questa serie che deve andare il bene ragazzi deve andare bene perché con ultra solo ultraluna io devo bestemmiare buddha cosa cazzo figliolo dio sei cosa sei e tra l'altro come ti indebolisco la domanda più che altro è questa provo con sasha raga dicevo ho allenato la squadra sono tutti circa livello 75 e dai è come super efficace ma io non so il tuo tipo che tristezza niente proseguiamo raga è stato bellissimo davvero ve lo giuro oh buongiorno lei un awakening ma tipo questa lava qua ci sarà un modo per farla andare via non si sa ok ragazzi volevo solo dirvi che tipo questo qui l'ho già battuto per sbaglio però perché tipo io stavo proseguendo e no cosa sta facendo cosa sta succedendo ma che abilità storta c'ho scusate fermi un attimo che abilità ho dicevo con lei l'ho affrontato perché per sbaglio sono andato avanti per fortuna che non ho incontrato pokemon ma che abilità ho raga non ho capito perché mi si stava aumentando l'attacco sinceramente non l'ho proprio capito vabbè comunque non è importante l'importante è che sia successo a noi va benissimo così datemi un repellente si esatto proprio questo è il tuo luogo guarda minchia zio ideale il tuo luogo ideale datemi un repellente perché altrimenti qua sclero la domanda è dove cazzo sono i repellenti ora e ce li avrò soprattutto sapete che non ne sono così convinto no no perché porca troia oh una caramella rara solo che non ho scala roccia mi sa oh buongiorno ok perfetto ho visto dei tizi camminare all'interno della montagna è interessante raga qua sicuramente si tratta di un cazzo di culto ma com'è livello 74 perché sei così alto ma perché mi dovete fare sclerare contro la madonna fare swipe mi toglierai due ps due ps minchia ci ho preso raga hashtag creepy guru dei ps ex scisor vai a casa seed bomb tu ma ciuppa e muori per piacere ok perfetto raga armin ormai è cioè veterano è con noi da secoli e non si non demorde non si molla un cazzo qua con armin non si molla nulla iron head close combat uccidilo non ci speravo sarò sincero allora fermi questo qua se mi va di close combat potrei andare di sasha volendo minchia se mi usi una mossa di roccia impazzisco reversal che cazzo è oddio contrattacco reversal ok air slash è a casa perfetto ok occhio alla grandina non mi deve buttare giù perché altrimenti veramente impazzisco ok no perfetto abbiamo sconfitto raga non si può nel problema perfetto raga non riesco veramente a capire perché il mio scrafty è tornato all'indietro nella prima gen dove tutto era in bianco e nero cioè veramente trovatevi una spiegazione logica a tutto ciò penso che sia un bug tra l'altro mi avete detto che la roba che io ho detto è pece è neve bugata neve nera bugata cioè adesso ditemi se il mio dubbio non era lecito cioè era bugata e quindi immagino che anche lo sprite del mio scrafty abbia deciso di implodere verso un altro universo tra l'altro mi chiedo ma se faccio così ok no lui è normale perfetto tra l'altro vedete flame un pochino più allenato degli altri questo semplicemente perché dovevo evolverlo e quindi avevo bisogno di più livelli e quindi è diventato più forte della squadra a caso adesso mettiamo davanti i sobek raga tra l'altro madonna mi scappano i rutti cioè se mi sembra normale sta cosa raga che gli youtuber professionisti scappano i rutti in live bello no bello e nulla volevo dirvi una cosa ah si che si è ritrovato flame si è ritrovata essere migliore del team a caso lui è arrivato e è diventato più forte del team ok e che nulla abbiamo cambiato un botto di pokemon in sto periodo perché ci sono morti tutti raga però armin armin lui c'è sempre cazzo armin c'è sempre sobek tra poco un po' meno dio bambino ok perfetto dai dio bambino ci sta gesù è un bambino vuoi che non sia bambino dio super power aia mi hai fatto male ora devi morire vero che muori si voglio sapere come io voglio sapere come io voglio cristo sapere come eri morto c'avevi la difesa che era a zero zio a zero c'avevi la difesa ce l'aveva fottuto zero è riuscito a reggere ma chi cazzo sei john cena tailwind ma va a fangulo tu e il tuo wind va wind vodafone tutti quanti ma ammazzati va uccello del malaugurio raga come cazzo ho fatto a reggere c'aveva la special defense giù fatemi controllare una cosa ma era così scarso scascia effettivamente scascia cazzo è scascia ma no ma si no era obiettivamente una pippa eeeh non ci avevo pensato al fatto che è un pokemon di merda eheh ok perfetto sasha è stato un piacere sei morto siamo a 25 di death count sembra veramente che stia passando hitler in questa serie ma è diciamo interessante questo qua raga mi è morto in allenamento ma si può c'è una morte della serie in allenamento con gli audino perché ha missato ha missato ai jump kick ma ce la fai dai mi fai fuggire però figliolo non posso andare avanti così nella mia vita ok grazie perfetto un elegantone perfetto speriamo che non mi apri al culo perché altrimenti sarebbe un problema raga ci ho perso sono 7 minuti di video ho già perso un pokemon perché mi mettete davanti gente che io non posso buttare giù no ok aspetta fermi merlin c'ha lancia fiamme merlin c'ha lancia fiamme non è merlin ok perfetto ok perfetto io devo abituarmi a sta cosa raga perché ho già capito che impazzisco io non l'ho mai capita sta cosa di zoroark cioè nel senso che l'ho sempre preso in culo dalla roba di questo genere tipo avete presente contro n contro n è sempre la che andavo mandava in capo il pokemon che era una cosa bella facevogli una mossa di tipo erba porca troia allora nel mentre ho visto un po' all'ivrat quindi john frog io spero di non fare una stronzata ho fatto una stronzata no è la grandine no fermi fermi ok pensavo di auspidarlo ho rischiato di prenderlo in culo a sangue uh ok ok greenwood non so come tu faccia essere ancora vivo ma mi va bene così tra l'altro raga abbiamo due pokemon delta nel team l'ho notato adesso allora saliamo di livello già che ci siamo che poi io non riesco a concepire sta cosa del vulcano con la grandine raga a parte che come scenario deve essere figo in real però dai dai che cazzo vuol dire sono riuscito a non salire a livello 76 mi sento un fallito voglio morire vi prego datemi le banane che me le voglio ficcare su per il culo abbondantemente oh buongiorno ah creepy che bello vederti qui ehm I guess it's down to the four of us it's down down vuol dire letteralmente alba forse all'inizio voleva dire il culto infernale lavora da qui insomma qui è dove qui è da dove viene il loro segnale di trasmissione it's like a maze in there we have to be careful maze non so cosa intenda ci divideremo due gruppi di due un cavo palestra un ragazzino Nora tu sei com'è creepy tu puoi andare con diana e qualcosa sapete di cosa mi puzza sta cosa del fatto che ci sarà la tipa di dark cry che me lo vorrà burrar culo perché sto aiutando la sorella io me lo sento so che finisce così tra l'altro come l'impressione di avercelo scala roccia poi controllerò perché andiamo piano non ti muovere ooooh incredibile ma che trama priva di colpi di scena bravi bravi mi hai mentito tutto questo tempo minchia proprio unexpected ma di quelli incredibili finalmente ho colto l'obiettile I finally beat the bullet ho esploso il colpo ho colto nel segno bullet è proiettile vabbè non è importante ti ho seguito eeeh lo I followed you I had to know avrei dovuto saperlo dovunque tu vada dark cry è sempre lì che ti segua che ti ammi che ti segue che ti ammira allora diana eeeh come hai potuto come 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 sei riuscita a fare ciò e ora stai tornando al culto infernale mi hai abbandonato diana mi hai lasciato crescelia eeeh è stato mandato a prendere entrambi noi eeeh noi due insomma boffi entrambe entrambe ok ma no tu eri troppo spaventata per se vuole per piacere tranquillizzati ti sentiranno eeeh sono stufa di fare silenzio per colpa tua ho speso tre anni sotto la pa- fix control after you were too scared to help sono stato sono stato tre anni sotto quel controllo eeeh control after you were too scared to help control after you non sto capendo ok perfetto eeeh noi eravamo cultisti non ti ricordi quanto fosse brutto ciò mi hai lasciato in quell'inferno e ti aspetti che io ti perdoni così facilmente do you know what I had to do to escape sai cosa ho dovuto fare per scappare come io eeeh sapete eeeh vorrei proprio sapere come avete fatto a scappare ooooh attenzione parte il dissing eeeh non apprezzo la eeeh le chiamate per nome in realtà eeeh I'm not a freak non sono un pazzo freak è pazzo letteralmente game freak vuol dire i pazzi del gioco quindi eeeh tipo freak una roba del genere eeeh sapevo so che siamo nemici ma perchè non proviamo essere educati uno con l'altro per una volta no guardie eeeh portate questi ospiti nella loro camera eeeh vi piacerà davvero tanto qui eeeh we have complimentary butlers and a nice health pool abbiamo dei dei gentiluomini dei butlers maggior domi molto 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 gentili molto cordiali e una piscina bellissima tipo una piscina health pool sauna se non sbaglio i'm afraid the lighting is a little bit different than the rooms under your base eeeh per sephone hopefully creepy will have a better time in mind ma no ma ho mandato in biniera ma che stronzo bastardo no mi hai imprigionato ma che stronzo no figlio di troia ma dai vai loro nelle camere fighe con la sauna e io ma no sembri confortante sembri comfy comfortable sarebbe quindi a tuo agio ecco eeeh te l'avevo detto che avresti saresti goduto il tuo soggiorno sono deluso che tu abbia dovuto sentire tutto ciò eeeh sembri proprio un ragazzo intelligente sono sicuro che tu abbia capito la mia abilità il controllo della mente è un termine veramente brutto però preferisco chiamarlo ottimizzazione della mente e in più beh io non sono perfetto ho bisogno del dna di qualcuno per farlo e ora ho il tuo divertente è divertente come funziona non trovi in effetti ho il dna di quasi tutti nella regione grazie al vaccino eeeh oh oh attenzione raga questo è peso eeeh possiedo anche il dna di reucra i vaccini fake sono una maniera molto conveniente una scusa molto conveniente per ottenere il dna di tutti a torren all'inizio ero preoccupato dna è stata in grado di scappare sembra che i leggendari siano abbastanza forti per lasciare i loro allenatori per permettere ai loro allenatori di resistere al mio controllo ero preoccupato che sarebbe che ero preoccupato che con te sarebbe stato lo stesso ma poi ho ascoltato la profezia di certo eeeh you thought that man you had traitor in your midst eeeh voi sapevate che avevate che avreste dovuto avere un traditore tra di voi eeeh ma ora che sapete della mia abilità ci divertiremo molto bastardo ti ti trapanerò costantemente costringendoti eeeh no non ci penso nemmeno però mi sa che mi tocca cosa devo fare mmm aspettate di solito in queste situazioni qua devo utilizzare il quartz flute vediamo un po' se posso farci qualcosa col quartz flute vediamo un po' vediamo un po' vediamo un po' vieni fuori bastardo ah raga qui andava messa la mano eeeh che cavolo se ne era accorto sarà fantastico poi vorrei che tu terremoto a caso ok beh possiamo aspettare sembra che ci sia una lotta nella sala eh torneremo qui molto presto sembra che il tuo amico Calriff e la ragazza siano stati trovati tu guardia non parlargli non guardarlo sarò di ritorno in un paio di minuti ok adesso torna indietro ragazzino non ti parlerò non è importante quando tu possa disturbarmi e invece invece voglio vedere lo sapevo eeeh hai notato come ho chiuso come ho aperto la porta questo è perché non sono un idiota eeeh è un è un cosa in pronta digitale è una un glucchetto in pronta digitale e sai che cosa vuol dire ciò anche se mi batterai non potrei andare da nessuna parte ok perfetto tu intanto a parte che mi stai affrontando che ho il mio pokemon in mezzo beee lo sicuramente vincerai figliolo ok perfetto a casa greenwood ha un piccolo problema logistico raga ossia che si ammazza ogni volta che usa una mossa oh il tuo fratellino a casa anche lui non vedo l'ora guarda ciao è stato un piacere perfetto ok si si ammazza ogni volta che usa una mossa io non posso andare avanti così però magari ti tagli una mano che ne so allora levati figliolo oh ho ottenuto il dna bella perfetto bella 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 ho ottenuto il dna bella lol ciao è stato un piacere beh anche se mi sconfiggi non potrei mai aprire questa porta cheat comunque ragazzi allora direi di non di non andare molto avanti più che altro perché magari proseguiamo un pochino e poi stoppiamo più che altro perché non vorrei assolutamente trovarmi veramente a fare episodi di 40 minuti perché mi sembra di avere il cancro e non ha effetto e e ho missato e mi sa che devo switchare perché altrimenti questo qua mi apre il culo tra un secondo e nulla ragazzi semplicemente che non vorrei assolutamente trovarmi a dover fare 40 minuti di episodio quindi direi che avanziamo un pochino e poi stoppiamo ci vediamo nel prossimo ok perfetto tanto abbiamo già fatto la caverna lì quindi comunque qualcosina abbiamo fatto utilizziamo trash contro questo cotoni che mi fa spaventare tra l'altro bello come la battaglia si stia sviluppando in un vulcano quando siamo in una struttura a noi piace e non è un uc vabbè dai oh 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 piano piano mi sono quasi ammazzato da solo ok fermi curiamoci un attimo tra l'altro fighissimo che io sono in c'è sta cosa qua che io posso diventare gli altri con il loro dna è una figata pazzesca che poi tra l'altro ho fatto un taglio non so quanto ci abbia messo a trovare le informazioni per premere qualcosa lì quindi 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 buono non so neanche quanto sia venuto lungo il video comunque penso non più di 20 minuti tra l'altro poi è sera quindi voi due aspettate il prisionero il prisionero è scappato non ti stai chiedendo perché io abbia dietro un fralligator vero sapete il ragazzino che può che ci potrebbe distruggere il ragazzino di cui ti avevo chiesto il ragazzino che avevo chiesto voi due guardie incompetenti il nostro il nostro grande annuncio sta per sta per essere trasmesso non possiamo avercelo come interferenza non possiamo avercelo tra i piedi in sostanza voi due mi farete da spalle veloci dobbiamo andare nello studio ok ragazzi direi che a meno che non troviamo un altro allenatore sulla strada magari affrontiamo lui e direi che poi possiamo fermarci lì c'è una pokemon lo teniamo e ci fermiamo perché stiamo andando allo studio di zenith facendogli da guardia del corpo raga il paradosso il paradosso intanto ho sputato sullo schermo interessantissimo hydropump perché perché un crabby mi sta uccidendo perché un crabby mi sta fottuto uccidendo io non riesco a concepire come un crabby possa uccidermi uccidermi oh quanto cazzo d'attacco c'hai quanto attacco c'hai mi stai aprendo attenzione raga semaforo è tornato tra di noi forse avrei dovuto mandare un po' con diverso perché effettivamente vabbè io cosa ci posso fare sono tutti diamond storm che cazzo ha eh dai però facciamo uno sword dance smash bravo così iron head in teoria dovrei sì però se ti ho metto sempre la difesa è un problema fermi curiamoci perché qua non sta andando per nulla bene la cosa curiamoci qui tra l'altro sarò tutto storto in facecam perché sono storto seduto proprio allora ci terrei assolutamente a non perdere armin se possibile quindi aah no 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 non armin niente raga devo andare devo andare in uno studio di zenith e nulla io sto poco a no raga amarmi no ma tra l'altro quanto cazzo doveva essere forte quel metagross per seccarmi quanto c'ho di difesa 2.195 195 che attacco c'avevi niente raga noi ci becchiamo al prossimo episodio sono troppo depresso per fare un outro un altro